fiu Max Allegri quando usava i social parliamo ormai di una vita fa partiva così no? Cioè a fine partita dopo certe partite hashtag fiu hashtag fiu lo usiamo noi in questa partita stampatello stampatello grassetto e con tante u non tanto per le occasioni date al Napoli però ora ne parliamo ma perché poi alla fine ci piace soffrire questa cosa va detta ma è una cosa che piace alla squadra prima di iniziare like al video iscrivete al canale se non l'avete ancora fatto che dire ti lascio un primo commento dicendoti a livello di numeri poi è una squadra che sa soffrire sa combattere oggi abbiamo regalato qualcosina di troppo però è una squadra che sta facendo un campionato a livello di risultati clamoroso poco da dire possiamo dire clamoroso che nessuno si aspettava per quelli per i problemi che abbiamo avuto comunque inizio campionato no alla fine stiamo sempre a ripetere le stesse cose ma senza fagioli e Pogba e con wea che ha saltato già un bel po di partite cioè comunque ti sta dimostrando cioè sei ancora lì aggrappato all'inter che domani o domenica ora non ricordo onestamente vincerà la partita contro l'Udinese quindi è una cosa che onestamente si aspettavano in pochi obiettivamente a prescindere che dal fatto che giochi una partita a settimana no sei più agevolato sotto molti punti di vista a livello fisico mentale e tutto però puoi anche staccare la spina io la vedevo cioè nel mio pronostico mentale avevo dato una vittoria della Juve per due a uno oggi però possiamo dire che questa partita l'abbiamo abbiamo sofferto un po' di più nel finale rispetto alle altre anche se Scesni ha fatto pochissime parate cioè parate semplici ecco tiri da fuori aria lenti quindi niente niente di che no io ti dico nel primo tempo a me la Juve non è piaciuto tanto a livello di atteggiamento prettamente nel secondo tempo siamo partiti forte e infatti il vantaggio secondo me arriva perché la Juve in quel momento stava giocando e stava gestendo la partita e stava stava provando a creare qualcosa ehm sia con i singoli che con l'intensità quindi siamo partiti forte secondo me nel secondo tempo dopo il gol abbiamo fatto bene per qualche minuto abbiamo avuto qualche occasione in più anche il palo di Vlaovic eh lì è un certo punto quello è prima del gol se non ero però sì anche se lì poi forse c'è una posizione fuori gioco però forse però eh perché poi rivista non lo so vabbè comunque a prescindere dopo il gol abbiamo cercato di fare qualcosa Chiesa si è proposto un po' di più eh è andato come al solito un po' a sprazi Chiesa oggi l'ho visto un po' più più in pante rispetto al solito forse perché si è allargato un po' di più Allegri gli chiedeva di stare più largo a sinistra e di accentrarsi anche se è poco incisivo mi è piaciuto anche nel primo tempo quando ha fatto quelle due due cose Vlaovic si è mangiato quel gol a ok Guayesos o Natan ora non ricordo chi dei due ha salvato il gol però Max dalla panchina diceva se la alza fa gol no? Un attaccante da novanta milioni quel gol no? Ci arriviamo anche i singoli eh provando a fare un'analisi breve della partita ti dico che poi secondo me noi ehm abbiamo ecco la poi a volte la fortuna serve nel senso eh nelle ultime tre partite avevamo sempre subito gol no? Eh Cagliari, Inter, Monza oggi non lo subiamo quando in realtà commettiamo degli errori più grossolani sì l'errore di Scesni pure no? L'errore di Scesni poi per fortuna nulla nel gol ma anche Kvara che si mangia si dipora l'uno a zero era una situazione che sicuramente poteva portare il gol del Napoli ed era colpa nostra perché c'era tutto un campo tutta la metà campo batteria proprio una distesa esattamente quindi dico che poi a volte vedi eh a volte gira bene a volte prendi un tiro prendi un gol a volte nonostante regali qualcosa in più c'è da dire che lì si è equiparato diciamo con col fatto di di Vlaovic che si mangia quel gol no? Sì però ecco io ti parlo proprio di eh disattenzione dici tu disattenzione che che fino ad oggi non avevamo visto alla fine siamo sempre stati perfetti in ogni partita pochissime se no zero sbavature dietro e dopo il Sassuolo parliamo sempre perché lì è successo tutte le partite si sono concentrate in una quindi però sì oggi ci sono stato un po' di di cappellate come sì 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 ma guarda eh l'importante è e questa è una cosa che la Juve ha ripreso rispetto gli scorsi anni e di non disunirsi in quei momenti difficoltà o negli errori e quindi non farsi surclassare dopo un errore io credo che la squadra ad oggi è squadra e questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio si continua a vedere soprattutto in alcuni momenti che manca qualità a livello tecnico per competere per lo scudetto secondo me però eh è una squadra che se poi parliamo di risultati e poi arriviamo anche i singoli e torniamo sulla partita però volendo parlare un attimo di numeri è una squadra che ad oggi ha fatto trentasei punti l'anno scorso nel girone d'andata non ne aveva fatti trentotto come ha ricordato lei anche in conferenza e mancano quattro partite per andare a migliorare questo dato che mi gratto ma dovremmo andare a migliorare no considerando abbiamo Genoa Frosinone Salernitano oltre alla Roma però dovremmo migliorarlo e è una squadra che sta facendo un percorso netto che ha una voglia di lottare e che squadra anche il fatto che lì sul cross di Cambiaso si trovi Gatti in area a fare l'attaccante aggiunto vuol dire che si parte parte dalla rimessa di McKennie che sappiamo che eh le fa lui perché eh ha una grande rimessa rimessa praticamente un calcio d'angolo quindi eh Gatti si propone sempre in quelle in quella situazione lì poi lui l'appoggia a bassa a Cambiaso quando non ho due Cambiaso mette una palla lo dicono anche dalla panghina se non è Rolanducci stesso sì 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 per Gatti che fa comunque un gran gol di testa cioè molto bravo di testa Gatti o ci ha salvato dall'anno scorso un bel po' di partite Gatti sì Gatti è l'emblema di quel del voler essere squadra secondo me eh e questo l'abbiamo visto anche perché secondo me oggi un giocatore del Napoli che fa ma lo sappiamo è forte una gran partita è così man perché davvero ti tiene occupato tutte le parti solo in mezzo due tre lui salta la prende vola anche se non sta bene perché non sta bene ancora no eh vediamo quando sarà bene però il discorso è che comunque eh eh siamo stati squadra anche in quello nell'aiutarci a vicenda perché non era facile oggi Osimena aveva tanta voglia di rivalza eh e anche lì appunto a livello di eh aiutarsi anche come reparto come come squadra come uomini perché il discorso lo facciamo sempre io e te che poi possiamo parlare di schemi di gioco di sovrapposizioni di diagonali quanto vogliamo se non non c'è di base quel no quella voglia di costruire qualcosa e di saper anche far schifo in alcuni momenti a accettarlo è è difficile cioè io ti faccio esempio Danilo oggi fa una partita ottima secondo me però eh è quasi come se ci fosse stato Rugani nel senso non abbiamo visto tutta questa differenza perché è proprio la squadra che sta lavorando in quel modo lì e quindi questa cosa è un punto di forza deve essere il nostro punto di forza perché purtroppo a livello di tecniche di gioco offensivo siamo carenti però è un gruppo ripeto numeri alla mano che sta facendo un campionato clamoroso perché su quindici partite perso solo a Sassuolo eh i pareggi sono stati tre contro Bologna Inter e Atalanta quindi cioè tutte le altre le vinte per me finora non potevamo aspettarci niente di meglio poi bisogna aumentare qualcosa un po' l'assuncella davanti davanti perché anche Ken non è entrato bene oggi secondo me anche Milik anche Milik Milik è preso un po' di falli è entrato in una fase della partita in cui Napoli stava facendo il forcing no magari per cercare il pareggio però e quando butti gli attaccanti secondo me in questo tipo di partite ci sono momenti cioè Milik magari in alcune ha cercato ed è riuscito a portarsi un po' la squadra su negli ultimi due tre anni abbiamo comunque sbagliato anche le ripartenze poi permettimi di aggiungere una cosa c'è sempre l'avversario quindi Juve non bellissimo oggi ma contro un avversario che ad oggi è a meno dodici da noi ed è campione d'Italia quindi in carica quindi meno dodici dopo quindici partite a inizio anno tu l'avresti detto no oggettivamente quindi è già un grande risultato anche perché la Champions bisogna riconquistarla e deve essere davvero l'obiettivo minimo ma obiettivo però comunque avevi davanti un avversario che veniva già dalla sconfitta di Madrid la sconfitta con l'Inter batterla di nuovo non era facile e invece lo fai quindi io sono davvero contento e inizio a pensare che poi la fortuna conti fino a un certo punto nel senso che evidentemente se vinciamo così tante partite anche combattendo è perché forse sappiamo combattere meglio degli altri. Vabbè Danilo l'ha detto a fine partita ha detto che comunque ciò che è successo l'anno scorso li ha uniti ancora di più e comunque Allegri no molla un centimetro in allenamento no ma Allegri ora che è a più dodici dal Napoli e siamo tra i primi quattro bene o male ci arriviamo tra i primi quattro finisce lì a stagione per lui cioè non è che non vuole vincere lo scudetto come ben sai quindi non se frega niente prepariamo c'è una Juve che d'ora in poi schiererà le riserve o la primavera tanto ma a parte i scherzi si vede che c'è un bel clima si è visto anche dall'abbraccio di Gatti con Allegri si vedeva tante cose. Anche a gol di Gatti che comunque erano tutti felici nessun cioè capita spesso e è capitato anche che se segna vabbè io mi ricordo Ronaldo che se non segnava lui e segnava il difensore accanto a lui pure se l'avesse sfiorata lui impazziva no? però segna Gatti ti vanno tutto addosso a partire dall'Avic poi chiesa stesso insomma c'è c'è un bel gruppo secondo me importante. Poi gruppo da rimpinguare secondo me a gennaio perché qualcosa c'è nel tuo campo serve e vabbè non è che aspettavamo belle notizie su Pogba eh onestamente però no? Sì diciamo è l'ammazzata finale diciamo che non ci sarà una soluzione per Pogba a voler stare larghi. A quanto andiamo ai singoli. Andiamo sui singoli non ci ho pensato tanto a chi mi è piaciuto di più o di meno eh partiamo dai top e ti dico che chiesa sicuramente eh è stato quello che davanti ha creato più scompiglio quindi per me merita ehm quanto meno una sì no per me è tra i top se non il top eh premio tutto il reparto difensivo perché eh Gatti per il gol Bremer e Danilo per me hanno fatto un'ottima partita ti aggiungo Locatelli eh non mi è dispiaciuto sempre in fase difensiva comunque è stato attento ha combattuto bene non era facile eh quindi i top per me sono questi non mi è piaciuto tantissimo che è subentrato però poi flop ci arriviamo dopo dimmi se siete d'accordo con me. Io ti dico Gatti lo metto tra tra i migliori vabbè per il gol però secondo me su Quara ha fatto una bella partita eh cioè l'ha tenuto l'ha fatto nervosire anche dalla stronzata l'aria ha toccato un po' il pallone poi lui ha reagito si è preso la munizione no? Però è come se stesse acquisendo ancora più vabbè ovviamente giocando giocando l'esperienza viene no? E lavora sporco io lo vedo un po' come Chiellini ma non fraintendetemi tutti eh nel senso a livello di di gioco di di lotta in campo rompe il cazzo a tutti è sporco cioè mi piace sotto questo punto di vista poi parliamo sempre di Federico Gatti che due anni fa giocava al Frosinore in Serie B. Diciamo che si vede che è un ragazzo che sta che veramente ha realizzato il suo sogno e che vuole lottare per per conquistare ancora altro comunque oltre a Gatti metto chiesa come ho detto tu poi cioè dei flop parliamo magari inizio io con chi non mi è piaciuto tanto ci metto rabbio che secondo me oggi non ha fatto una grande partita ha sbagliato un sacco di appoggi a un certo punto verso la fine sicuramente non ne aveva più perché lo vedevo camminare ma sull'ultimo cross di di Lorenzo se non erro non andava neanche più a pressare ha saltato ha fatto la finta è giusto per dire speriamo che quindi metto lui e poi McKennie magari qualche errore di di passaggio no tecnico così però comunque si è dannato come sempre non dimentichiamo comunque tra i top forse abbiamo cambiato che ha fatto un'altra grande un'altra grande partita anche lui però qualche sbavatura tecnica l'ha fatta a parte il cross esatto però una partita vinta una zero se metti un cross del genere non c'è un premio ti va dato bravo anche lui no sui flop guarda sono d'accordo con quello che dici tu però purtroppo devo aggiungere perché sembra che ora iniziamo a volerli male o a volerlo criticare spesso pure Kostic non benissimo però Dusan Blavic anche oggi io sono del parere che un attaccante certo non è colpa sua essere stato pagato così tanto ok però se hai delle occasioni così nitide in partite importanti non me le puoi sbagliare tutte e capisco il rigore sbagliato e la ribattuta sbagliata a Monza e poi il gol sbagliato oggi cioè nelle partite importanti nelle partite combattute mi aspetto qualcosa in più sfortunato lì su quel palo che poi era da vedere se era regolare o meno ma a un certo punto mi sembra anche che giochi a molto con leggerezza perché ricorderai benissimo quando a un certo punto va incontro il pallone a centrocampo stoppa bene l'allarga a calzo pallone perso cioè sì è capito anche lì non è così che deve funzionare però vabbò vediamo prima o poi tornerà uscito per crampi comunque uscito per crampi vediamo cioè non so io inizio a pensare che non bisogna andare per scontato che debba essere lui il titolare però magari di questo ne riparleremo più certamente però concludendo vittore importante serve soprattutto a noi anche per continuare a crescere eh purtroppo anche questa volta sarà un primato solo provvisoio però eh i meriti sono dell'inter eh no scherzi a parte comunque abbiamo creato un solco importante che denota una crescita della squadra rispetto allo scorso anno e questo non è mai da da sottovalutare ci rivediamo come sempre ricordo anche in chiusura like al video iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto fino alla fine c'è il famoso caffè perciò lo volesse prendere esatto potete abbonarvi tanto costa meno di un caffè eh per sostenerci che dire andiamo in chiusura e vediamo al prossimo godiamoci un weekend noi tranquilli abbiamo fatto il nostro diciamo così ciao ragazzi grazie grazie grazie